Davide Nicola l'ha rifatto, il suo Empoli entra bene in partita e si salva all'ultima giornata battendo 2-1 la Roma al termine di una gara condotta con grande padronanza. Il condottiero porta a termine un'altra grande impresa. L'uomo delle imprese si è ripetuto, ancora una volta da subentrato a stagione in corso. Dopo aver raccolto l'eredità da Andrea Zoli, la situazione era di estrema difficoltà, Nicola ha saputo esaltarsi ancora una volta, approcciando nel migliore dei modi la lotta salvezza. Niang ha realizzato 6 gol, contribuendo a portare in porto una nave che viaggiava su onde complicate. Ed è sicuramente l'uomo da ripartire per il progetto dell'anno prossimo.